Anzitutto non è mai facile incontrare questa squadra perché è una squadra fortissima, all'andata ci hanno battuto e oggi l'unico modo per portare a casa i tre punti era se entravamo in campo concentrati. Così è stato sin dal primo minuto, il primo tempo è stato abbastanza bloccato perché le due squadre sono forti, nel secondo tempo ci siamo sbilanciati un po' di più e la nostra esperienza ci ha permesso di portare a casa i tre punti.